Ciao a tutti, sono Eleonora Logiudice. Sapevate che c'è un frutto peruviano dall'alto contenuto di vitamina C che è ideale per la preparazione dei dessert? Il suo nome è Kamu Kamu. Se non tenevi idea della sua esistenza, allora accompagnami a guardare questo video dove ti spiego quando e come utilizzarlo. Il Kamu Kamu omiciare a dubbia è un arbusto che cresce spontaneo nella foresta amazzonica peruviana. La sua dimensione può variare da quella di un cespuglio a quella di un albero. Esso produce un piccolo frutto rotondo, rosso porpora, grande quanto una ciliegia o un acido d'uva che matura durante la stagione umida. Il Kamu Kamu è un frutto acido a causa dell'alto contenuto di vitamina C. Quando il frutto è maturo viene raccolto a mano per poi essere processato. Dalle sue lavorazioni si ottiene una polvere rosa pallido utilizzata per gli integratori per la preparazione di vari dessert, drink o frullate. Secondo la medicina tradizionale peruviana, il Kamu Kamu veniva usato per alliviare i dolori e combattere le infezioni. Il Kamu Kamu si può gustare fresco anche se la polpa è molto acida e ricco di vitamina C e questo lo rende utile contro la febbre o il raffreddore. Oltre che rafforzare il sistema immunitario, il frutto è usato per aumentare l'energia e sollevare l'umore. Esso inoltre aiuta a migliorare la salute del fegato, combatte l'infertilità maschile e femminile. Il frutto è anche ricco di valina, potassio, leucina, serina, flavonoidi, acido gallico, acido ellagico, tutti elementi utili per migliorare il sistema immunitario, nervoso, il funzionamento degli organi e il rafforzamento delle ossa e dei muscoli. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento, se è così non dimenticare di sottoscriverti al nostro canale e dare clic alla campanella per ricevere tutte le nostre notificazioni. Ci vediamo presto!